Pin analogici e pvm sugli attini. Per coprire tutto il mondo degli attini mancano solo i pin analogici e l'utilizzo del pvm. Proviamo a mettere insieme le cose controllando la luminosità di un led usando un trimmer. Niente di complesso immagino. Ribocchiamoci le maniche e iniziamo subito. Abbiamo visto gli ingressi e uscite digitali degli attini, oggi vediamo i pvm e gli analogici. L'attini ha anche due uscite pvm e tre ingressi analogici. Ora collegheremo un trimmer a un ingresso analogico per controllare un pvm. Qui abbiamo il nostro attini 85. Colleghiamo a ground e questa parte a 5 volt. Io per alimentarlo uso solitamente l'arduino che già funisce 5 volt quindi rubo due fili con il positivo e il negativo e lo collego sulla breadboard dove ho l'attini. Altrimenti potete utilizzare un alimentatore esterno dedicato. Qui vado a collegare un trimmer da 10 o 20 kg quello che avete tra ground e il 5 volt. Il pin centrale del trimmer lo vado a portare sull'attini e lo collego sul pin numero 3. Sarebbe il pin fisico numero 2 che però è il pin di 3 per il firmware. Invece il led lo colleghiamo sempre al solito modo quindi resistenza un leddino e poi vado a ground. Resistenza da 330 ohm. Il pin da utilizzare è digitale 0 che è il pin fisico numero 5. Ma vi ricordo come sempre il procedimento per andare a caricare il firmware sul latino è quello di fare riferimento al primo video della serie che abbiamo fatto in cui lo vado a collegare alla usb asp con tutta quella serie di fili, lo programmo poi lo stacco e vado a realizzare il circuito. Se siete furbi vi fate una basettina già cablata per la programmazione in modo che sia tutto più facile. Vendono anche delle chiavette già con lo zoccolino costano forse un po di più e sono però più comode. Dopo averlo programmato lo scollegate lo mettete sulla breadboard e realizzate il circuito. Andiamo a scrivere il firmware. In questo caso è facile l'analogico non devo configurarlo. Facciamo solo pin mode del pin 0 output. Il pin 0 è il pin fisico numero 5 ed è un'uscita pvm. Poi nel loop faccio int val uguale analog read. Il pin che mi interessa è la a3. Faccio val uguale map di val che va da 0 a 1023. Questo perché il valore letto dall'analogico varia in un range da 0 a 1023 mentre per il pvm mi serve un valore che stia tra 0 e 255. Quindi map funziona anche per lattini. Dopodiché faccio analog write 0, pin 0 e il valore rimappato. Metto un delay di 100 millisecondi. Verifico che le impostazioni siano corrette. Board attino 85, processore attino 85, clock interno 8 MHz, programmer usb asp. Compilo carico e modificando la pressione del trimmer con un cacciavite dovreste vedere il led aumentare e diminuire di intensità. Bene anche per oggi è tutto. Abbiamo coperto gli argomenti principali degli attini. Fra qualche giorno vi presenterò anche un sistema per programmarlo senza utilizzare la chiavetta usb asp. Quindi direttamente con arduino. Potrebbe essere più comodo per tutti voi. Bene detto questo vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!